Assessore, l'Epifania tutte le feste porta via, si dice voi chiudete questo ciclo per il momento non molto fortunato, bisogna dire, di avvenimenti con che cosa negli ultimi giorni della Befana? Noi chiudiamo questo ciclo di avvenimenti non molto fortunati alla fine dell'anno, perché se no poi abbiamo avuto tutta una serie di eventi durante questi cinque mesi che invece hanno avuto un ottimo riscontro, quello di Capodanno un pochino meno rispetto alle aspettative, però è stata una scelta che abbiamo preso tutti insieme. Il 4 torna alla Fiera dell'Epifania, che è un classico, è un classico ormai, è un evento ripetitivo, un evento tradizionale che porta, spero che il meteo ci aiuti perché ripeta il successo della Fiera di San Berardo, che è stata una fiera che ha avuto un grandissimo successo e quello che ho sempre sostenuto e che continuo a sostenere e che secondo me dobbiamo fare, la ripetitività degli eventi, dargli continuità, questo porta successo, porta pubblico tradizionale, porta pubblico che comunque partecipa all'evento al di là della pubblicità che se ne faccia. Noi il 5 invece replichiamo, diciamo così, l'aperitivo in strada. L'evento si chiamerà non a Peribrulè, come avevamo previsto all'inizio, ma a Terra Monderod, sarà un evento di musica, arte, cultura. La formula è sempre quella, la zona interessata è quella che va da qui da Piazza Orsini, Piazza Martiri, fino al Davignon. Le critiche sono quelle di una libera vendita dell'alcol, il timore che ci siano anche minorenni che possano acquistarlo e ubriacarsi, e l'altra invece riguarda la pulizia delle strade nel dopo manifestazione. Voi avete pensato anche a questo? Sì, abbiamo già fatto una conferenza di servizi su questo, sulla viabilità, prima di tutto, con l'ufficio mobilità, con la TEAM, perché non ritardi, diciamo nemmeno di un minuto la pulizia, dopo abbiamo avuto un problema in un sabato, in cui è finito il sabato proprio della fiera di San Berardo, se non ricordo male, in cui è stato un po' ritardato e quindi il sabato il passeggio è stato un po' diciamo così vincolato al discorso che in strada c'erano ancora gli scatoloni della fiera. La TEAM farà un servizio speciale non agli orari soliti, cioè alle 6 di mattina, ma subito, praticamente appena finirà la manifestazione, credo che alle 3, alle 4 finirà.